buonasera buonasera benvenuti a tutti grazie essere qui bentornati istantane che è l'unico podcast italiano senza stand up comedian nel momento è l'unico e siamo molto emozionati di avere con noi un ospite graditissimo che in realtà avevamo cercato di invitare anche nella prima stagione ma non c'eravamo riusciti per motivi logistici tutto parte da un libro che è questo libro qui la romagna roberto balzani un libro in realtà che incomincia avere qualche anno perché la prima edizione del 2001 e faceva parte di una collana che aveva ideato per il mulino ernesto galli della loggia sull'identità italiana e il sottotitolo del libro recita la romagna la più italiana delle nostre piccole patrie ero molto piccolo perché avevo 14 anni la prima volta che l'ho visto non ho capito proprio tutto poi l'ho ripreso in occasione di questo incontro e mi sono reso conto che era per me veramente cruciale parlare della nostra identità ma non per motivi semplicemente folcloristici ma perché secondo me è molto importante oggi in un momento di identitarismo esasperato in provare a smitizzare a demistificare certi certi tic mentali che continuiamo ad avere l'identità come diceva un antropologo molto importante remotti è sempre in fieri non è mai un'identità monolitica una sola ma ci sono più identità e l'identità cambiano a seconda delle stagioni a seconda delle culture e a seconda della storia appunto oggi parleremo con uno storico contemporaneo importantissimo uno storico del risorgimento gli incarichi che ha avuto sono innumerevoli me li sono dovuti segnare perché non me li ricordavo tutti è stato preside della facoltà di beni culturali di Ravenna dal 2008 e dal 2009 si è formato alla scuola Alfieri di Firenze allievo di Giovanni Spadolini è stato dal 2017 al 2020 il presidente dell'istituto dei beni culturali per l'Emilia Romagna dal 2020 fa parte del comitato scientifico dell'istituto storico risorgimento italiano e dal 2015 è il presidente del polo museale dell'ateneo di Ravenna ultimo ma non per importanza voglio ricordare anche che dal 2009 al 2014 è stato sindaco della città di Forlì e non ci può non venire in mente a noi Ravennati un altro sindaco un altro sindaco storico importantissimo che abbiamo avuto che è il compianto Pierpaolo Dattorre quindi vorrei fare un bel applauso per Roberto Balzani Dov'è? Buonasera professore Benvenuto nel salotto di Lido Adriano Partiamo subito con la prima domanda per rompere il ghiaccio partiamo dalle origini storicamente insomma leggiamo anche nel suo libro è sempre stato molto difficile quantomeno a livello geografico definire la Romagna i suoi confini lei parla di confini cosiddetti ballerini cosa hai dentro cosa è fuori a volte è difficile da definire a pieno quindi le chiedo la Romagna è un'invenzione o esiste per davvero? Beh naturalmente esiste questo vorrei rassicurare i tuoi esempi non ho mai inteso mettere in discussione l'esistenza della Romagna piuttosto capire che cos'è prima di tutto perché è una realtà che fa riferimento a una cosa che in Romagna non c'è e cioè Roma e però questa Roma alla quale fa riferimento la Romagna non è la Roma a cui pensiamo noi cioè la capitale del paese quanto la Roma d'Oriente e cioè esattamente Costantinopoli che era il luogo da cui proveniva poi il grande potere di quelli che noi chiamiamo bizantini ma che all'epoca si chiamavano loro si chiamavano Romani e non avevano una parola bizantina una parola moderna che viene utilizzata per definirli ma loro si ritenevano i Romani cioè quelli che avevano ereditato nella tragedia della catastrofe dell'impero romano d'Occidente poi alla fine il primato di questa civiltà romana che aveva illustrato il mondo e lo spazio dominato dai bizantini dentro il Nord Italia che arrivava sostanzialmente fino al Po poco oltre e arrivava grosso modo fino a Modena non è andato mai fino quasi a Modena è il lo spazio che poi i Romani d'Oriente hanno di fatto tenuto per alcuni secoli e questo nome è poi rimasto bisogna dire che non li chiamavano così loro nel senso che dobbiamo tenere presente il fatto che per chiunque venga dalla civiltà romana l'identità è costitutiva della cittadinanza è intrisa di cittadinanza civis romanus sum dove c'è la civiltà di Roma lì ci sono i Romani quindi non aveva senso il termine confine in senso spaziale ce l'aveva molto di più viceversa per la popolazione che venuta dal Nord contendeva a Bisanzio il dominio della valle Padana e cioè i Longobardi perché i Longobardi avevano viceversa una concezione estrattiva dello spazio cioè tribù di tipo militare si insediavano nel territorio e naturalmente sfruttando le risorse di questo territorio poi dominavano quindi la definizione dello spazio per i Longobardi era una questione assolutamente vitale perché identificava il potere della tribù e del comandante delle famiglie e molto meno per i bizantini sta di fatto che appunto è in quell'epoca in quell'epoca di conflitto che nasce la parola Romagna o Romania alla greca naturalmente che è poi rimasta attaccata a questo territorio ecco perché è un territorio che ha una origine che non sta nella dimensione etnica come Veneto come Liguria come la stessa Langobardia la Lombardia terra dei Longobardi cioè legata a una posizione a una popolazione qui invece ci troviamo di fronte a una un'idea sostanzialmente una grande suggestione e non è una cosa da poco infatti mi ricordo che nel libro lei parla spesso del fantasma dell'impero cioè un po' come se la regione nascesse già un po' nostalgica cioè qualcosa che non c'è ma che continuiamo che non c'è più concretamente ma che continuiamo a chiamare in questo modo il rapporto ad esempio fra identità e potere è molto interessante cioè di solito l'identità arriva quando c'è necessità di esercitare un potere in una regione il fatto sta che lei parla di identità estroversa parlando della Romagna e facendo riferimento essenzialmente a la Santa Sede che ha bisogno di dare un nome di definire un nome e in secondo luogo se non sbaglio anche durante il periodo napoleonico che tra l'altro ha scatenato una diatriba incredibile fra Ravenna e Forlì che non vogliamo rispolverare questa sera anche perché ormai è ignorata siamo nei libri polverosi a lasciamo dormire ma che quindi che cos'è questa identità estroversa? L'identità estroversa dipende dal fatto che la Romagna, l'idea di Roma è chiaramente un capitale simbolico molto importante lo è per Bisanzio, per l'appunto, cioè per Costantinopoli che si ritiene Roma a buon diritto nel senso che là effettivamente un imperatore fonda una grande città che è ancora lì, che si chiama Istanbul e dall'altra parte lo diventa anche ovviamente per la Chiesa che si ritiene l'erede della tradizione imperiale la donazione di Costantino, questo grande falso dell'ottavo, nono secolo, non lo sappiamo esattamente per il quale c'era un documento che poi fu dimostrato falso da un illustre umanista che si chiamava Valla nel Quattrocento in base al quale lo stesso imperatore Costantino guarito dalla peste avrebbe regalato diciamo così in maniera molto superficiale comunque affidato diciamo così al vescovo di Roma la tradizione di un impero superstite dimostra quanto questo capitale simbolico fosse importante per cui diciamo che i romagnoli in quanto tali hanno dovuto fare i conti con questa enorme tradizione che trascendeva completamente quello che loro erano sostanzialmente dei contadini perché poi era questa la loro come di tutto il resto della popolazione ma non c'era neanche una classe dirigente interna al di fuori dell'arcivescovo di Ravenna in un certo momento che fosse in grado di interpretare una tradizione così nobile le nostre città erano piccole città non avevano delle reti intellettuali potenti erano completamente distanti dai centri anche di produzione intellettuale siamo soltanto a Bologna che aveva lo studio fin dalla fine dell'undicesimo secolo quindi avere un'eredità così grande significava in qualche modo poi come vedremo fare i conti con un peso e anche con una difficoltà a definirsi a un certo punto perché quelle definizioni le davano gli altri per contrasto diciamo così e poi i romagnoli ci si sono abituati bene ovviamente dentro questo stampo che li ha definiti nel corso del tempo naturalmente c'è anche il caso di Napoleone magari quando ne riparleremo Napoleone che fa scattare appunto questa diatriba incredibile perché sceglie Forlì crea il dipartimento Rubicone se non sbaglio a scapito di Ravenna che invece era un po' isolato geograficamente e quindi fa scoppiare una diatriba incredibile beh diciamo che Napoleone non lo fa solo in Romagna quando arriva l'occupazione napoleonica con la Cispadana e poi con la Cisalpina Napoleone ricostituisce diciamo le strutture amministrative imitando quello che la rivoluzione francese aveva fatto in Francia cioè dipertimentalizzando i territori dipertimentalizzare voleva dire creare dei territori relativamente omogenei sulla base di una lettura del territorio che fosse razionale quindi i bacini idrografici in primo luogo perché poi il commercio si sviluppava dalle vallate verso il fondo valle quindi tenere presente quali erano questi bacini di riferimento e poi naturalmente la comodità degli accessi ai luoghi centrali del dipartimento per cui cambia completamente la geopolitica territoriale della Lombardia in un primo tempo della Lombardia e poi ovviamente di questo pezzo dell'Emilia è della Romagna quindi nasce il dipartimento del Rubicone il dipartimento del Basso Po che è quello di Ferrara il dipartimento del Reno eccetera eccetera e anche ovviamente in Lombardia il dipartimento dell'Oglio dell'Adda e quindi non è che sia stata un'operazione strana da questo punto di vista un'operazione assolutamente in linea con quella che era l'impostazione diciamo di governo del territorio poi è chiaro che nella decisione finale teniamo presente che non c'è solo Ravenne e Forlì all'inizio perché quella che ha più chance di diventare capoluogo di dipartimento in realtà è Faenza Faenza aveva un primo dipartimento il dipartimento dell'Amone che poi fu soppresso dalla Cisalpina Faenza era la città più abitata del centro storico di dimensioni maggiori e lo sarebbe rimasto fino all'unità d'Italia il centro storico di Faenza era quello più popolato più popolato di Ravenne più popolato di Forlì quindi Faenza si converte rapidamente al nuovo regime prova a emergere e in questa specie di gioco triangolare alla fine soccombe quindi non c'è solo diciamo la competizione Forlì-Ravenne è chiaro che in questo caso Forlì aveva un vantaggio che era di tipo territoriale nel senso che si collocava lungo la via Emilia quindi questo era per Napoleone un vantaggio rispetto al fatto che Ravenna era decentrata tuttora diciamo rispetto agli assi viari principali sappiamo che questo è un classico problema del territorio tuttora sentito eccetera e poi secondariamente che era la sede di un arcivescovado prestigioso e di conseguenza capoluogo di legazione prima la legazione di Romagna e quindi per Napoleone evidentemente fare i conti con un notabilato di nuovo conio a lui completamente fedele e favorevole era naturalmente un vantaggio molto oscurante quindi diciamo che è una ragione che ha a che fare sia con la geografia e sia naturalmente con l'utilità politica di questa relazione sociale ci dispiace molto per gli amici faintini che ci hanno provato ma non sono riusciti a diventare dipartimento però bisogna dire che gli amici faintini hanno uno splendido luogo che è Palazzo Milzetti che ben rappresenta il tentativo di una diciamo di una nobiltà di un'aristocrazia che si converte al gusto neoclassico e all'ideologia napoleonica ed è l'unica realtà che ha qualcosa di simile che quindi la dice lunga anche sul tentativo che c'è stato sulle rivalità fra i municipi romagnoli torneremo perché è un capitolo interessantissimo del libro del professore e però una cosa molto interessante che emerge è che Napoleone quando arriva soprattutto nel periodo post napoleonico è un po' come se risvegliasse il torpore romagnolo sotto lo stato della chiesa e infiammasse gli animi di sentimenti politici di ideologie politiche il fatto sta che uno dei miti che ci diciamo spesso è il mito della Romagna come vandea rossa cioè come territorio sovversivo contrario al potere costituito e lei dice che però anche questo un po' appunto un mito costruito è esposto e sono stati intellettuali a cucirlo sopra una regione che invece era piuttosto pacifica è così? Beh diciamo che se prendiamo che la Romagna sia stata influenzata e infiltrata da Napoleone e in generale dall'occupazione francese non lo dico solo io lo diceva il vecchio Andrea Emiliani parlando anche delle architetture e del gusto neoclassico della Romagna riteneva che ci fosse una dimensione illuminista in questo governo napoleonico che i romagnoli avevano condiviso molto più degli Emiliani l'altra cosa è che la Romagna fosse un territorio abbastanza simile agli altri territori dello Stato Pontificio non lo dico io se voi prendete questa memoria di Domenico Antonio Farini che era poi parente di Luigi Carlo e che era stato un notabile anche diremmo noi oggi intellettuale giornalista del periodo Napoleone con lui aveva scritto un opuscoletto subito dopo l'accaduto di Napoleone intitolato La Romagna cui le prendete le prime pagine diceva fino a che non arriva Napoleone questo era un posto dove sì c'erano i briganti c'erano degli assassini c'erano cose che capitavano abitualmente qui capitavano in Abruzzo sotto i Borbone capitavano nelle Marche capitavano nel Lazio ma non è che ci fosse una protesta politica della Romagna inesistente totalmente non c'è nessun documento che documenti scusate il besticcio di parole qualcosa di diverso dal municipalismo e dalle lotte municipali che fanno parte di tutta l'Italia centro-settentrionale senza distinzione quindi da questo punto di vista non c'era un elemento interno che facesse presagire che qui sarebbe successo qualcosa di particolarmente diverso certo il fatto che dentro il notabilato che aderisce a Napoleone una parte di questi uomini cominci ad affidarsi alla nuova società e in particolare alla carriera delle armi i figli cadetti dell'aristocrazia e della buona borghesia anziché farsi sacerdoti come era abitudine vanno a fare gli ufficiali di complemento oggi si direbbe degli eserciti napoleonici veliti e le guardie d'onore erano diciamo i gradi dell'ufficialità subalterna e noi abbiamo i dati franco della peruta li aveva tirati fuori per tutto l'esercito della repubblica regno d'italia al tempo di napoleone si vedeva che c'era una sovra rappresentazione del dipartimento del rubicone rispetto agli altri dipartimenti tenete presente che questi non erano non c'era la costruzione obbligatoria per questi livelli di ufficialità ma questi erano volontari quindi non i coscritti quelli che dovevano farlo per forza erano i contadini naturalmente questi invece decidevano di farlo quindi da qui possiamo già dire e in particolare le città che avevano dato più ufficiali subalterni in questa chiave erano Faenza e Forlì quindi chiaramente si capisce che lì c'è un'adesione di classe dirigente potremmo noi oggi dire favorevole dopodiché quindi questa componente che si è in qualche modo conformata all'impostazione napoleonica e cioè che non ci è arrivata per interesse quelli che ci arrivano per interesse sono i proprietari che comprano i beni della chiesa che Napoleone mette all'incanto e questi ci sono dappertutto rimangono con le loro idee che avevano prima e intendiamoci li comprano non cambiano ma uno che prende su e si fa ufficiale per andare a combattere in Russia ovviamente siamo su un altro piano perché vuol dire che aderisce a una visione perché là non era una vita di guarnigione c'era erano stragi faccio presente che nella battaglia di Borodino muoiono 40 generali francesi cioè in una battaglia quindi tenete presente il rischio per quindi vuol dire che le persone che partecipano a quel punto lo fanno in una maniera diversa e questo mondo napoleonico che poi è un mondo a cui piace un'amministrazione più efficiente diremmo noi oggi vagamente moderna e poi quello sul quale si costruisce poi la contestazione allo Stato Pontificio quando lo Stato Pontificio ritorna però anche lì una buona mano perché questa visione non ce l'hanno solo i romagnoli ce l'hanno anche in Lombardia ovviamente ce l'hanno anche in parte nelle Marche qui diventa la cosa particolare perché la repressione che viene scatenata di questi fenomeni da parte dei Pontefici e in particolare da parte di Leone XII finché rimane Pio VII le cose non vanno così male è ancora un Papa in qualche modo modernizzatore ma con Leone XII le cose cambiano il partito più conservatore che prende il sopravvento ebbene questa forma di repressione estremamente estesa fa sì che molte persone alla fine si sentano come nei maxiprocessi tutti presi dentro e anche quelli che magari non lo erano tanto lo diventano dopo uno di questi è il bibliotecario quello che sarà il bibliotecario di Ravenna Primo Uccellini che appunto non parte da questi presupposti più radicali ma poi lo diventa lei a un certo punto del libro fa emergere un nesso molto forte fra la trafila garibaldina da una parte e la storia del passatore a metà dell'ottocento e le chiedo questi eventi in che modo hanno e come hanno consolidato il mito politico della Romagna all'epoca beh diciamo che c'era un mito politico che era stato costruito già da prima e l'avevano fatto soprattutto intellettuali del calibro di Massimo D'Azzeglio che poi sarà anche presidente del Consiglio in Piemonte uno diciamo dei grandi padri del liberalismo italiano che commentando questi moti senza senso che si erano svolti anche in Romagna fra il 43 e il 1843 e il 45 scrisse un fortunatissimo opuscolo che si chiamava degli ultimi casi di Romagna che non era in realtà una celebrazione della Romagna ma era secondo lui la dimostrazione che i romagnoli avevano sbagliato tutto i romagnoli continuavano a pensare ai moti e lui diceva invece bisogna fare quella che allora si chiamava la cospirazione alla luce del sole cioè bisogna scusa bisogna in qualche modo dire esplicitamente quali sono le riforme di cui ha bisogno questo Stato o altri Stati e soprattutto guardare su una scala che non è più locale ma diventata un problema nazionale l'Italia è stata sdoganata come idea da Mazzini poi da Gioberti ne possiamo parlare liberamente i problemi si risolvono sulla scala nazionale pensare che si risolvano riformando lo Stato Pontificio fuori dalla storia ormai questa era la teoria e diceva poi è chiaro siccome noi che siamo italiani abbiamo un handicap nei confronti della politica moderna che è quella dell'opinione pubblica del ragionamento riflessiva naturalmente con tutti gli stereotipi del caso siamo persone a sangue caldo per cui essendo meridionali ce la prendiamo ci arrabbiamo tiriamo fuori il coltello eccetera eccetera i romagnoli all'interno di questi abitanti a sangue caldo sono particolarmente caldi quindi hanno una loro già conformazione è chiaro cosa volete che facciano delle stupidaggini hanno l'ennesima stupidaggine e quindi è la dimostrazione che bisogna cambiare registro quindi siccome però come sempre succede nei libri normalmente la gente legge il titolo ma non il contenuto quello che è rimasto del volume di Massimo D'Azeglio è il fatto che i romagnoli erano i padri erano dentro questa filiera del risorgimento ma Massimo D'Azeglio aveva scritto un libro che diceva che i romagnoli avevano sbagliato non che i romagnoli avevano fatto bene avevano clamorosamente sbagliato e dovevano guardare i piemontesi i quali viceversa gli avrebbero insegnato come fare per impostare la politica immobile questa era la tesi di D'Azeglio con tutta la simpatia che lui aveva per il mondo romagnolo peraltro dopodiché cosa accade che questo è il mito diciamo che si costruisce intellettualmente poi un evento reale quindi non un evento immaginario ma un evento reale che è la fuga diciamo la grande fuga di Garibaldi dopo la caduta della Repubblica Romana per raggiungere Venezia e quindi sostanzialmente un tentativo folle perché si porta dietro all'inizio qualche migliaio di persone che debbono passare attraverso l'Appennino arrivare fino a San Marino scendere verso il mare prendere una barca da qualche parte e poi arrivare a Venezia che ancora resisteva contro agli austriaci ecco questa operazione naturalmente non va da nessuna parte moltissime persone muoiono ovviamente in questo tragitto quando arrivano a San Marino e c'è il rompete le righe sono qualche centinaio quelli che riescono fisicamente ad accompagnare Garibaldi e in questa discesa non arrivare fino a San Marino perché noi abbiamo oggi la documentazione per arrivare a San Marino attraversando il Lazio l'Umbria fu una tragedia colossale perché naturalmente i paesi non volevano aprire le porte dovettero andare e rapinare sparare fucilare quindi una situazione diciamo non propriamente facile naturalmente con gli austriaci e le calcagne insomma successe di tutto viceversa la cosa curiosa succede quando questo piccolo gruppo di persone scende da San Marino per andare verso Cesenatico per poi prendere il famoso i famosi Bragozzi per andare verso Venezia e poi c'è gli intercettati dagli austriaci poi scendono a Magnavacca e comincia il tentativo muore Anita e la la copertura per portare Garibaldi in salvo questo tipo di operazione viene fatta da individui che non tradiscono mai Garibaldi ed è questa la cosa curiosa perché non sono diciamo diretti da un'entità politica non c'è nessuno in quel momento c'è il governo militare austriaco se vengono presi anche chi dà loro ricetto a Garibaldi e ai suoi amici viene fucilato cosa che peraltro succede a buona parte di quelli che erano con Garibaldi fra i quali Ugo Bassi e poi naturalmente Ciceruac il figlio Ciceruac e altri vengono poi presi fucilati e in maniera del tutto casuale Garibaldi invece riesce poi a uscirne portato fino a Modigliana e di là grazie a Don Giovanni Verità fino al confine toscano questo passaggio è un passaggio che avviene in un contesto popolarizzante popolare con qualche individuo chiaramente sia a Ravenna sia nel Forlivese che più degli altri organizza questo passaggio ma lo fa diciamo a suo rischio e pericolo totale e nessuno tradisce Garibaldi quindi questo che cosa ci fa capire probabilmente da un lato c'è già una voce che Garibaldi è un personaggio da romanzo perché quello che è successo sulla Repubblica Romana diciamo è arrivato anche qua molti romagnoli erano alla difesa di Roma qualcuno era già tornato a casa altri avevano avuto amici che erano morti e quindi di conseguenza c'è questo elemento ma c'è anche probabilmente diciamo la facilità con cui Garibaldi che è poi fondamentalmente un eroe popolare riesce ad avere queste relazioni cosa che non sarebbe capitata magari a un altro personaggio questa protezione di Garibaldi poi diventa l'origine effettiva del mito della Romagna risorgimentale ma qui diciamo siamo però di fronte a un dato di fatto quindi questo è un mito che diciamo è vero che è vero nel senso che nessuno tradisce Garibaldi poteva essere fucilato esattamente come gli altri ma invece c'era questa sorta di dittico nel libro da una parte Garibaldi che è come se cucisse la Romagna perché passa dal litorale poi va in collina attraversa tanti paesi e dall'altra parte il passatore il passatore oggi è sulle bottiglie del Sangiovese però aveva anche non aveva fatto delle cose bellissime se non sbaglio il povero Artusi la sorella di Artusi viene maltrattata a Forrimpopoli a Forrimpopoli se non sbaglio all'inizio del 1851 e come finisce lì? come fa il passatore diventare un mito un eroe popolare? perché lo conosciamo tutti in Romagna beh diciamo che il passatore non è un eroe popolare finché è in vita attenzione e questo libro bellissimo di Leonida Costa il rovescio della medaglia uscito ancora molti decenni fa è ancora la ricostruzione più ricca con la documentazione d'archivio che ci dice come il passatore fosse diciamo un criminale ferato e probabilmente anche psicopatico diciamo nelle modalità con cui eseguiva poi giustiziava le persone le ammazzava le faceva a pezzi eccetera eccetera sì sì certo e quindi diciamo che questa perché diventa pericoloso il passatore al di là di tentativi apocrifi di farlo passare per un garibaldino per una persona che aderisce a una diciamo a una parte ma questo voglio dire succede anche nel sud per i briganti meridionali perché i briganti meridionali che dicono di essere per Francesco II e sono invece delle bandi criminali che organizzano un sequestro di persone su vasta scala perché questi sono stati Carmine Crocconi con Anco ha fatto questo anche loro come dire cercavano di nobilitarsi al cospetto degli interlocutori vantando relazioni diciamo che al passatore questa cosa riesce pochissimo perché non ha la compattezza di quelli del sud che avranno quelli del sud dopo i quali peraltro avevano no i quali peraltro avevano anche un notabilato che li sosteneva nell'organizzazione criminale altrimenti da soli non ci sarebbero arrivati a stare in piedi per alcuni anni questo non appartiene al passatore che non ha una rete di protezione o una struttura di manutengoli così articolata e però il passatore rispetto agli altri briganti dell'epoca che c'erano sempre stati e continuano in parte a esserci anche dopo è particolarmente diciamo pericoloso per lo Stato Pontificio perché conquista i paesi cioè entra dentro i paesi per fare le sue scorrerie e il controllo lo Stato Pontificio non riusciva a garantire la sicurezza del territorio non l'aveva non c'era mai riuscito perché lo Stato Pontificio non dobbiamo pensarlo come uno Stato moderno era una federazione di municipi fondamentalmente chi viveva in campagna viveva alla mercè di quello che capitava aveva per riuscire a sopravvivere un po' faceva il manutengolo e un po' si affidava ai campieri dei proprietari terrieri maggiori che magari lo proteggevano questo era il meccanismo per cui diciamo che fuori dallo spazio murato quando cadeva il sole diciamo era bene non girare le persone stavano a casa loro questo viene raccontato mille volte le fonti sono tantissime e fin lì se uno agiva nella campagna era a posto nel senso che si dava per scontato tenete presente che la dimensione della sicurezza che come sapete è una questione vitale della politica di ieri e di oggi sia evocare la sicurezza sia evocare l'insicurezza è un modo di fare politica abitudinario diciamo abituale tenete presente che addirittura nel 1831 quando c'era stata la famosa rivolta contro lo Stato Pontificio a Bologna era stata fatta all'insegna di uno slogan libertà e ordine pubblico che per una rivoluzione converrete con me come motto è un po' particolare ma l'ordine pubblico era quello dei notabili che volevano la sicurezza dicendo ma dobbiamo fare uno Stato moderno perché questi qua non riescono neanche a garantirci la sicurezza delle cose materiali quindi diciamo che fino a che rimangono le città murate in qualche modo fuori da questa contesa e da questo luogo ambiguo che è quello della periferia e della campagna le cose sono ancora tollerabili ma quando il passatore comincia a fare le incursioni nei paesi e quindi mette direttamente sfida direttamente l'ordine costituito dello Stato Pontificio dentro lo spazio urbano più munito là dove non dovevano assolutamente entrare i briganti per questa sorta di diciamo di relazione non scritta di rispetto è chiaro che diventa il nemico pubblico numero uno e noi vediamo che comincia la sua diciamo le sue taglie crescere a dismisura via via che conquisti i paesi l'ultimo è Forlimpopoli dove lì diciamo arriva quasi alle soglie di una grande città potremmo dire oggi no? Quindi dopo quello cosa poteva fare? Cesena Forlì cioè stavamo parlando di cose di questo genere quindi è evidente che a quel punto bisogna assolutamente stanarlo il mito quindi finché c'è questo personaggio qui c'è la paura del passatore non c'è la visione nostalgica ovviamente non è ancora cortese come vuole Pasquale appunto la parte cortese è una parte successiva e anche in qualche modo costruita sulla base del successo delle narrazioni dei briganti del sud che non dimentichiamolo cominciano a scrivere le loro biografie farle narrare c'è un grande successo di una letteratura minore e quindi chiaramente anche da noi poi si diffonde si diffondono ci vedrei bene una serie Netflix sul passatore invece che fare Summer Time secondo me quella è una cosa il Cisin potrebbe essere un luogo lo vendiamo anche a serie sul passatore poi preso dalla gendarmeria pontifice quindi dopo si esaurisce si esaurisce lì però diciamo il Lazzarino che è il suo compagno di merende continua a infestare le campagne fino al 1957 tassette si chiamava così quindi c'è tutta una serie che rimane cioè non è che finisce cioè dopo il brigantaggio torna a essere quello di prima quindi diciamo non è che improvvisamente viene tutto tant'è vero che quando alla vigilia ormai della conclusione del risorgimento 1857-58 gli aristocratici dello Stato pontificio si rivolgono al Parlamento inglese e agli intellettuali inglesi come Gladstone Palmerston che sono che conoscono l'Italia che hanno viaggiato eccetera eccetera mettono in risalto proprio questo tema dell'insicurezza e della mancanza di Stato moderno fondamentalmente legato a questo non tanto le istituzioni rappresentative ma proprio anche a un aspetto che riguarda i diritti fondamentali dei cittadini diremmo noi oggi quindi le libertà fondamentali perché poi in realtà nel risorgimento fino al 1848-49 il tema della Costituzione è in realtà molto più periferico rispetto a queste esigenze pratiche molto più concrete sempre all'interno del suo libro mi ha incuriosito molto il ruolo del circolo di cui la Romagna è piena quindi insomma la prima domanda la prima riflessione che mi era venuta è perché proprio in Romagna e perché la Romagna diventa probabilmente la prima zona italiana in cui nasce diciamo la politica di massa questa è un po' la riflessione che volevo sottoporli beh questo è un argomento interessante perché in realtà diciamo che il circolo in quanto tale come luogo di ritrovo e poi anche come luogo in cui si decidono si decidono le sorti di una città di un paese comincia nell'età napoleonica per l'appunto torna al 1810 e poi viene esportato nei territori dell'impero e poi diventa si popolarizza probabilmente anche in Inghilterra eccetera eccetera ma stiamo parlando dei circoli dei nobili degli aristocratici o della classe dirigente quindi quando cioè del modo diciamo di è stato definito così di nidificare al di fuori della propria casa di una borghesia o di un'aristocrazia che non ha più i soldi per ricevere come nel gattopardo tutti l'elite a casa propria con una festa mostruosa questo non dopo diciamo gli anni 50 fanno fatica a farlo sono poche le famiglie che non si possono permettere andare incontrare le persone al circolo del Wist è più semplice perché lì hai poi già organizzato hai bisogno di organizzare una cena te la paghi offri la cena tutti devono essere vestiti impeccabilmente quindi c'è un contesto nel quale ritrovarsi è più semplice e poi ci si trova tutti insieme sempre quando voi entrate nel consiglio comunale di Ravenna ci sono e tutti intorno ci sono i busti dei cardinali ad eccezione di uno sulla destra che sembra Bart Lancaster nel gattopardo e che è un gattopardo cioè è un aristocratico piemontese che viene mandato a 40 anni più o meno l'età del principe di Salina viene mandato a fare il primo prefetto di Ravenna e questo quando arriva qua le prime cose che fa è aprire una succursale della Banca Nazionale del Regno quindi sistemare l'aspetto finanziario che sta molto a cuore ai proprietari e poi costituire il circolo il circolo dei cittadini viene portato dal prefetto è lui che lo inaugura ma non solo qui è in tutta la Romagna quando se ne va e andrà a fare poi il sindaco di Torino addirittura i Ravennati gli dedicano il busto che rimane come una sorta di rappresentazione anche fisica di un'antropologia che cambia prima solo i cardinali poi improvvisamente un signore borghese di ancora giovane che prende in mano e probabilmente con l'arroganza di questi giovani di uno stato moderno che va giù pari si direbbe quando porta queste cose senza tanti complimenti quindi questo è il circolo dopodiché quello che viceversa non era previsto era che questi circoli diventassero potessero esistere anche a livello più basso popolare e qui bisogna dire che c'è una una documentazione di prima di prima mano che sono che riguardano Ravenna in particolare e che sono le le carte di questo bibliotecario della classense che si chiama Primo Uccellini che avrebbe dovuto distruggere queste carte ma essendo un bibliotecario ovviamente non lo fa l'avrebbe dovuto distruggere per sicurezza sua personale quando arriva dopo la pulizia ma non lo fa e grazie al cielo raccoglie questa documentazione e questa documentazione cosa ci dice ci dice che c'era a Ravenna e probabilmente anche altrove ma per Ravenna abbiamo una documentazione quantitativa una struttura di circoli che probabilmente era di tipo corporativo cioè metteva insieme quelli che una volta erano i mestieri della città quindi ognuno si portava dietro i suoi garzoni anche con delle attività di tipo ricreativo anche per controllarli ovviamente e quindi noi abbiamo non so il circolo dei macellai il circolo dove c'erano i facchi eccetera eccetera questa dimensione di tipo di struttura corporata o addirittura in certi casi dei circoli di cacciatori questo sì persone che andavano poi in pineta si trovavano andavano a caccia poi prendevano le cose si mangiava ovviamente questa era la base come sempre naturalmente e quindi diciamo questa struttura esisteva poi arriva un momento nel quale vengono politicizzati questi circoli cioè la questa componente più democratico garibaldina mazziniana loro è tutto insieme non si vede la differenza costituisce una sorta di super circolo che è il circolo diciamo dei notabili del partito del gruppo i quali hanno come che si chiamava Carlo Cattaneo Ravenna che hanno il controllo dei circoli sotto che sono la loro massa di manovra e cambiano i nomi di questi circoli cioè li battezzano con i nomi del risorgimento cosa che un cacciatore prima era circoli e cacciatori e poi esatto poi alcuni rimangono perché c'è la tradizione perché la società della sacca rimane la società della sacca ma molti diventano la società Luciano Manara magari facevano i macellai uno era Nino Bixio magari chissà cosa facevano non lo sanno neanche chi era Nino Bixio o lo sapevano ma l'avevano sentito nominare ma diciamo che c'è questa politicizzazione imposta dall'alto viene a dire dove un pensiero un cervello vocale non nazionale ha questa visione di controllo naturalmente questa dimensione è una dimensione che lo Stato liberale non capisce perché lo Stato liberale vede solo i circoli dell'elite per loro esistono solo come il circolo della caccia per dire quello è la loro scala tutta quest'altra roba per loro sono delle forme di organizzazioni paracriminali cioè non c'è una lettura del processo anche perché poi dentro c'era di tutto naturalmente dentro a questi contesti c'era il bene il male tenere insieme centinaia di persone era facile c'era un sistema anche di mutuo soccorso perché era evidente altrimenti non sarebbero stati insieme e quindi noi assistiamo a un periodo momento in cui questo avviene perché avviene probabilmente perché in questi primi anni sessanta la componente chiamiamola così democratica che aveva fatto il risorgimento si accorge di non poter andare al governo non poter mai in un sistema censitario come quello italiano avere uno spazio di governo del paese non pensa neanche di poter essere cooptata oltre un certo limite e allora comincia a pensare che è meglio radicarsi sul territorio aspettando tempi migliori e qui in Emilia in Romagna lo fa questo ragionamento lo fa in particolare Aurelio Safi che è il diciamo il personaggio più dotato politicamente di questo mondo e questa consociazione che poi mette insieme tutti i territori romagnoli viene fondata a Ravenna nel 1872 quindi questo momento è particolarmente importante naturalmente lo Stato Unitario li legge come paradelinquenti e comincia anche un'opera repressiva per cui vengono in qualche modo diciamo considerate delle associazioni sovversive cioè queste forme di associazione vogliono essere equiparate a quelle che nel sud per l'appunto erano in qualche modo di supporto ad attività di tipo criminale malavitose eccetera eccetera e qui bisogna dire però che ci sono uomini come Domenico Farini che poi diventa presidente della Camera dei Deputati cioè stiamo parlando di personalità di primo rango che difende la tradizione romagnola cioè sono i liberali della Romagna che dicono no guardate qui state prendendo un colossale abbaglio perché questi non sono come quegli altri hanno noi qui stiamo stiamo facendo un'altra cosa che poi verrà poi valorizzata più dai socialisti bisogna dire che dai repubblicani perché i socialisti sono quelli che vanno a votare prima che quindi pensano che queste associazioni poi abbiano un significato anche di organizzazione non solo di classe ma anche elettorale facciamo un salto usciamo dall'ottocento e arriviamo invece a diciamo un altro capitolo importantissimo della storia romagnola che è ovviamente legato a Mussolini lei definisce Mussolini impollinatore della Romagna e quindi la domanda un po' strana che le faccio è ma è Mussolini che ha inventato la Romagna di massa o è la Romagna di massa che ha inventato Mussolini cioè qual è il rapporto inventa lui la regione dunque allora bisogna dire innanzitutto che per capire qual è il contesto e cosa qual è il percorso che fa Mussolini bisogna prendere la prima biografia diciamo autorizzata che è quella di Beltramelli L'uomo nuovo che esce per i tipi di mondadori nel 23 poco presidente del consiglio in cui si spiega da dove viene Mussolini e in particolare questa ricostruzione di predappio terra vulcanica come se fosse Letna fondamentalmente Vesuvio Vesuvio quindi un uomo che ha questa capacità eruttiva anche lui perché viene da una terra di scabra eccetera eccetera e quello che si capisce è che però nel libro di Beltramelli che il riferimento culturale di Mussolini al di là dei circoli diciamo socialisti ovviamente importantissimo per quanto riguarda la Romagna è già filtrato da un'esperienza intellettuale che è quella di Spallicci e del mondo del Plaustro prima e della Piae poi cioè quel mondo di intellettuali regionalisti romagnoli che prima della Prima Guerra Mondiale cominciano a recuperare questa tradizione folclorica cosa che capitava in tutte le regioni in quel momento capitava nelle Marche capitava in Abruzzo capitava in Sardegna capitava ovunque questi studi demo-etro-antropologici diremmo noi oggi più folclorici con il recupero del dialetto la messa diciamo la composizione in dialetto il recupero delle cante romagnoli che poi naturalmente sono inventati di sana pianta perché non c'era la musica ovviamente che ce la mette Martuzzi che compone le cante e Spallicci ci mette il testo quindi non c'è nulla di originale nulla però sono ricostruzioni di una identità che si riteneva in pericolo in pericolo nel 905 cioè perché ormai la modernità ci sta sopraffacendo quindi tutto questa componente culturale romagnolista diremmo noi oggi che era destinata a scomparire dopo la prima guerra mondiale perché la P.E. tirava e vendeva 200 coppie quindi stiamo parlando di niente quindi una povera elite di personaggi di persone appassionate ma niente di più diventa invece il conosce un enorme successo perché perché Mussolini se ne rimane affascinato devo dire più Arnaldo di Benito via Arnaldo e soprattutto che fa parte del gruppo dei trebbi del diciamo di Spallicci fin dall'inizio entra dentro questa visione della questa nuova lettura della Romagna che quindi è una lettura che ha una componente di matrice politica e una componente di matrice culturale che però si è già sviluppata di cui lui si appropria in un primo tempo addirittura come sapete il fascismo tra il 1923 e il 1924 addirittura ha l'idea di insegnare a scuola il regionalismo e escono un sacco di diciamo di libri di testo per i ragazzi proprio per questo scopo poi Mussolini capisce che il regionalismo porta alla frammentazione territoriale e quindi cambia completamente registro chiude tutte queste esperienze la pie stessa verrà soppressa nel 1933 e si ritorna alla visione centralista nazionale eccetera eccetera però la cosa curiosa è che cosa si salva di questa matrice si salva l'idea non tanto che la Romagna deve rimanere come un'eccezione no è Mussolini che attraverso la narrazione dello spazio romagnolo spiega come lui sia il prodotto di una terra che è la somma dell'italianità quindi è vero che vengo da predappio sembra dire ma vengo da predappio perché se uno passa la Romagna e la gira e arriva alla fine è come se avesse fatto un tour della storia d'Italia e quindi passa l'arco di Augusto ed entra come in una specie di Stargate in un viaggio nel tempo che lo porta naturalmente a Ravenna con Bisanzio Dante poi c'è naturalmente il mondo dei comuni e quindi Forlì eccetera eccetera e Imola poi c'è il Risorgimento quello va da sé basta per tutto poi c'è Oriani a caso Lavalsegno che è il precursore mito del precursore del fascismo nonostante fosse morto nel 1909 e poi dopo alla fine di tutto c'è Baracca quindi Cavaliere dell'Ideale massimo eroe della prima guerra mondiale quindi c'è anche quella guerra lì c'era Garibaldi salvato quindi anche lui prima nel Risorgimento e poi si finiva dove? Nella casa natale del Duce e a Dovia e lì c'era questo tipo di ragionamento dove è visibile? Quindi dici Matteo te lo sei inventato a parte il fatto che ci sono dei testi che raccontano il giro che dovevano fare le scuole quando venivano in Romagna come cita scolata c'era il circuito ma la cosa più interessante è che se andate al Ballardini all'istituto d'arte a Faenza c'è una bellissima ceramica del periodo fascista di Rambelli a destra che racconta il tour della Romagna alla fine degli anni 30 con tutti i luoghi centrali che servono per fare la storia d'Italia salvo che è stato epurato perché al posto della casa natale del Duce dopo la guerra ci misero una anonima cornucopia per cui non si capisce più doveva finire cioè quello che era il percorso che cominciava da Rimini e finiva predappio e che sarebbe stato il caso di lasciare col senno di poi l'avremmo lasciato perché è un documento straordinario era stato dopo la guerra è stato epurato per cui si perde un po' di questo senso e quindi in qualche modo ecco perché la Romagna diventa la più italiana delle piccole patrie perché era già estroversa prima nel nome e Mussolini la fa diventare effettivamente una specie di summa della storia d'Italia così summa della storia d'Italia che una volta accaduto Mussolini nessuno ne vorrebbe più sentire parlare giustamente ci fanno segno dalla regia che siamo quasi arrivati abbiamo due domande due abbiamo due domande poi dopo chi vorrà continuare si continuerà a parlare con il professore si fa così però creare delle eccezioni però evidentemente parto io come vuoi concludiamola c'era la Romagna Marketing che a me mi faceva impazzire Romagna Marketing è il giro di prima finisce la cornucopia oggi la romana è soprattutto inodastronomica e ha un senso purtroppo lei finiva il libro facciamo le ultime due domande poi lei finiva il libro con questa con questa frase e poi ci sono i romagnoli famiglia alla quale appartiene anche il sottoscritto ecco i romagnoli dovrebbero svegliarsi dal sogno ragionare sui processi culturali che hanno costruito il loro arsenale di cose di emblemi di disegni colorati vecchio di decenni e dimenticare le parole d'ordine l'ecazione ripetere il bozzettismo l'annedotica insomma dovrebbero semplicemente imparare a lavorare assieme lei tra l'altro è stato anche sindaco di poi ne sa qualcosa secondo me ma oggi questi romagnoli hanno imparato a lavorare assieme o siamo ancora vittime del campanilismo del municipalismo uno contro l'altro beh io credo di sì cioè che siano ancora vittime del municipalismo e del campanilismo cioè non quello che io così non ho visto poi nell'esperienza successiva è e devo dire neanche poi sulla scala circondariale attenzione non solo infra romagnola è la reale la reale capacità di leggere i processi collettivamente cosa vuol dire che uno si può anche trovare in disaccordo sulle soluzioni però devi partire da una lettura che condividi allora a me personalmente interessa molto sapere cosa succede a Ravenna cosa succede a Cesena come processi perché le città poi vivono dei tempi loro e non tutte le città soprattutto queste che sono equivalenti dal punto di vista alcune almeno erano equivalenti dal punto di vista demografico oggi non più perché oggi c'è una differenza demografica che sta una forbice demografica molto forte che sta aumentando fra Ravenna e Rimini da una parte e una zona invece di crisi demografica pesante che è quella del Forlivese del Cesenate e a me interesserebbe che questi processi venissero letti insieme letti insieme nel senso che tant'è vero che quando nacque la famosa asla unica della Romagna che non è un'idea dei romagnoli che lo dico subito ma è un'idea della regione non è stata una proposta dei romagnoli io nel momento in cui si creò l'assemblea dei comuni erano tutti i comuni romagnoli feci questa proposta ma perché questi devono parlare solo di sanità se volendo si riunissero anche per parlare di strade che so io o di sistemi di comunicazione o di scuole ma per chi glielo impedisce cioè fanno un ordine del giorno scrivono e poi come tutte le assemblee si prende il potere cioè nel senso ti prendi la responsabilità poi dopo la riverbererai nelle istituzioni esistenti e invece non è successo neanche questo quindi io quello che credo è che quello che è rimasto è fondamentalmente diciamo il feudalesimo politico quello che io chiamo il feudalesimo politico delle città romagnole cioè le città romagnole sono governate da elitta autosostenute tutte interne e una competizione sulla scala regionale subregionale in fondo sono i politici che non la vogliono prima che i cittadini i cittadini probabilmente sarebbero anche pronti io Jacopo ce la faccio fare questa domanda no 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 devi farla l'abbiamo l'abbiamo messa in scaletta troppo dolore sì sì la devi fare vado abbiamo non so la piadina concludiamo con la piadina ma passiamo drasticamente in un modo quelle domande appunto finali ma ha veramente un'origine orientale cioè ci toglie è un'invenzione ci sta togliendo la piadina professore no 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 attenzione allora su questo devo dire che chi voglia leggere cose c'è un bellissimo articolo di Piero Meldini che è un grande scrittore nonché direttore biblioteca Gambalù è storico direttore della biblioteca Gambalunga di Rimini che ha scritto una cosa tempo fa intitolata Cicalata sulla piada a cui rimando chi voglia diciamo approfondire l'argomento no diciamo che sicuramente questa la piadina rientra fra i tipi di pani senza lievito che appartengono a tante popolazioni delle aree mediterranee e che probabilmente arrivano qua essendo la diciamo Ravenna una porta in oriente ovviamente poi però non dobbiamo dimenticare che siccome c'erano i longobardi che erano invece appassionati del maiale ci abbiamo poi messo lo strutto dentro la piadina quindi non è che non ci sia stata questa me l'ha detto mia moglie mi ha detto guarda tu non puoi non sostenere che non ci sia una peculiarità e quindi lo strutto c'è e con lo strutto stiamo su un altro pianeta diciamo se ci mettiamo poi il prosciutto e il salame diciamo che se le se le suonavano ma probabilmente quando si trovavano in condizioni non proprio bellicose uno ci portava la piadina è bello pensare la piadina come unione dei popoli essenzialmente i bisantini portavano la piadina e l'altro portavano il maiale e facevano con questa chiusura ecumenica gastronomica vi salutiamo e ringraziamo il professor Sibille 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 Sibille